I spaghetti io li tolgo un po' crudi, no ardenti, un po' crudi perché poi li faccio saltare insieme al sugo nella padella. Ovviamente ho fatto lo spaghetti allo scoglio, gli metto i pomodorini e poi i gamberi e i calamari. Alla fine viene messa la cozza perché la cozza deve cuocere poco, altrimenti la perdi. Ahhhh, poi dicono che tu non fai niente, sei sempre lì a lavorare. Dicono, dicono, questi sono guai che facci, vedi? Lo sai perché ho detto meno? L'uomo lavoratore. Ho già ricevuto io, è la ruina ragazza. Ecco qua, guarda che stai facendo, questi sono spaghetti allo scoglio. Mi ce l'hai dato e brava. Cerco di cucinare bene perché l'ospite deve andare con quella cosa bella, che comunque cucinare bello Donino. Mi ha fatto una spaghetta, mi ha fatto arrocriare. Ma voi ah, si sta zuccando me! Però devo dire la verità, un uomo ai fornelli fa sempre bene. La donna quando cucina ci mette il cuore di mamma e di tutto. Di gran grande uomo c'è una grande donna, ma non cucina come questa signora qua.